Con la cosa di corruzione di minorenne, pornografia minorile ed adescamento di minorenni compiuti ai danni di 6 ragazzine di età inferiore ai 14 anni, la polizia ha arrestato a Bari un 39enne. L'arrestato, dopo aver adescato le minorenne sui social network attraverso profili sempre diversi e con falsa identità, ha inviato alle giovanissime molti firmati ARD che lo riproducevano senza mostrare il volto disteso su un letto. I fatti contestati fanno riferimento al periodo marzo-settembre 2015. Le indagini della polizia postale di Bari hanno accertato che l'uomo per adescare le sue vittime utilizzava diversi profili. Nonostante la denuncia partita da alcuni genitori delle minore coinvolte, l'uomo ha continuato l'opera di adescamento dichiarando in chat «Non mi bloccare, tanto ho molti profili e ho il modem criptato, quindi nessuno può trovarmi». I poliziotti hanno quindi perquisito l'abitazione del 39enne sequestrando diverso materiale informatico e oggetti per lo più completi di arredo nella disponibilità dell'uomo, che si è però procurato altre apparecchiature informatiche per continuare a molestare altre minorenni. In un caso, dopo essersi presentato con il nome di Checco e aver dichiarato di avere 16 anni e mezzo, l'uomo ha avuto una relazione sentimentale con un adolescente, convincendola con varie promesse ad inviare sue foto intime, rassicurandola sul fatto che avrebbe cancellato il video. Grazie a tutti!